Sulla raccolta differenziata al comune di Pescara si registra un passo indietro del sindaco Carlo Masci. Ad affermarlo, il candidato sindaco del centro-sinistra, allargato al Movimento 5 Stelle Carlo Costantini, chiesta mani sull'argomento ha tenuto una conferenza stampa. Anche sulla raccolta dei rifiuti, così come su Viale Marconi e sui semafori Tiredde, ha aggiunto ancora Costantini, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Masci, ha dovuto fare un passo indietro. Improvvisazione, superficialità, proteste, mancanza di isole ecologiche, numero sufficiente di servizi hanno obbligato il sindaco Masci a tornare indietro e a dichiarare prima che si trattava di un programma provvisorio e poi a fermare tutto. I pescaresi hanno pagato il noleggio dei mezzi e a breve anche l'acquisto dei mezzi per assicurare il servizio di raccolta differenziata e di porta a porta che in realtà non è partito. Il bilancio di ambiente risente del fatto che con l'introduzione del porta a porta il suo bilancio avrebbe dovuto avere delle significative economie perché il conferimento di porzioni di rifiuto tipo vetro, plastica, carta e organico avrebbe dovuto comportare degli entroiti e la riduzione dell'indifferenziato in discarica avrebbe dovuto comportare dei risparmi. Tutto questo anche è saltato. Insomma è questa la situazione disastrosa alla quale si è accompagnata una corposa campagna di comunicazione che di fatto è diventata inutile perché la campagna di comunicazione deve seguire progressivamente l'avanzamento della raccolta porta a porta invece la campagna di comunicazione che è stata fatta da Masci e dalla sua giunta di fatto si è esaurita in un altro che in una passerella elettorale servita a far comparire sugli organi di stampa e di informazione assessori e consiglieri di ambiente ma di fatto non ha prodotto nessun risultato e quindi i 100-150 mila euro che sono stati spesi per la sola campagna di comunicazione dovranno essere spesi di nuovo se e quando la campagna di comunicazione partirà. Queste sono cose che evidentemente non vengono comunicate ma che noi ci siamo presi l'impegno di far sapere ai cittadini perché è evidente che giocherellare con queste cose, dire facciamo un passo in avanti e poi farne due indietro, un po' come è avvenuto per il Viale Marconi un po' come è avvenuto per i semafori Trappola sono operazioni che hanno un costo pesante sul bilancio del Comune e di conseguenza pesano direttamente sulle tasche dei cittadini questa credo che sia un'operazione scandalosa anche perché prima di partire con questo porta a porta tutti avevano detto al Sindaco non è possibile realizzare quel progetto bisogna fare più isole ecologiche deve esserci più progressività i sacchetti nel centro non possono essere posizionati perché il centro non può reggere questo tipo di raccolta porta a porta il Sindaco tu o no io vado avanti porterò a casa il risultato entro maggio e settembre del 2023 in realtà entro maggio 2023 l'unico risultato che ha portato avanti è costituito dallo spreco di risorse che sono servite per organizzare un servizio che non è mai partito e dall'incremento della Tari pari mediamente al 5% che i pescaresi stanno pagando senza avere il servizio